Ma guardi, spero di no, perché spero che non si consideri un modello la fiducia su una delega in bianco. Sarebbe davvero grave, ma non per la minoranza del PD, sarebbe grave credo per la democrazia di questo Paese. Siamo già arrivati a un numero di fiducia come mai nel passato. Il 75% dei provvedimenti approvati sono stati approvati da voti di fiducia. Adesso è ancora più grave perché la delega è in bianco. Io credo che il fatto meriterebbe l'attenzione del Presidente della Repubblica perché siamo di fronte a diritti fondamentali che vengono riscritti da parte del Governo con una delega assolutamente generica data dal Parlamento costretta a votare la fiducia. Quindi davvero non è il problema della minoranza del PD, il problema è per il Parlamento e per la qualità della nostra democrazia.